Quando ero ragazzo io che andava in farmacia era solo un malato e quindi meno ci stava dentro meglio era, meno persone incontrava meglio era e un po' si vergognava pure perché ci hanno sempre insegnato che il dolore va in qualche modo negato, che del dolore non si parla perché fa anche parte della vita, insomma veniamo da quella cultura lì, della valle di lacrime. Poi le cose sono cambiate, sono cambiate per tanti motivi, sono cambiate perché i farmaci sono più efficienti, è cambiato il mondo perché invece che morire a 45 anni adesso siamo vicini ai 90, perché è cambiata l'alimentazione, perché è cambiato il tempo libero perché sono cambiate le relazioni, ecco il punto. E quindi anche tutto quello che andava attorno al malessere è diventato benessere. Adesso ci occupiamo non solo più, ci preoccupiamo non solo più del disagio ma ci piace anche parlare dell'agio. E l'agio vuol dire sentirsi belli, sentirsi in forma, sentirsi capaci di relazioni, sentirsi giovani. Pensate come è cambiata l'età evolutiva in questi anni in maniera sbalorditiva. Ci sono delle ragazzine 13-14 anni che fanno la vita di 25-26. Ci sono delle signore e dei signori di 40 che fingono di fare i sedicenni e quindi è tutto un po' confuso. Diciamo che siamo anche un po' smarriti da questo punto di vista. Però poi ci sono degli ausili, c'è una fragilità che non è più legata al morbo, alla malattia, ma è una fragilità legata a cose più effimere, se volete. Per esempio l'aspetto, per esempio l'identità. Io credo che oggi varchi la porta di una farmacia anche e soprattutto chi non ha un motivo drammatico imminente ma per esempio ha voglia anche di chiacchierare. c'è una ricerca interessante sul tempo che una persona sta da un medico omeopata che è quasi cinque volte, quattro volte e mezzo il tempo che un medico cosiddetto tradizionale dedica ad un cosiddetto paziente. E vuol dire che la medicina tradizionale non ha capito niente. Perché? Perché c'è bisogno di consolazione e non vanno solo consolati i moribondi, vanno consolate le persone perché siamo fragili per tanti motivi che una volta magari non ci rendevano così frantumati. Mia nonna era sicuramente molto più forte di molte donne di oggi. Perché? Perché aveva visto le guerre, aveva visto la spagnola che aveva decimato la popolazione italiana, aveva fatto traslochi pazzeschi, aveva assistito persone, aveva tirato su figli e nipoti. Tutto questo oggi è tutto molto delegato se ci pensate. Tutto quello che faceva una donna 50 anni fa, 60 anni fa, adesso lo fanno sei o sette persone. C'hai la babysitter, c'hai la badante, c'hai tutta una serie di altre persone a cui delighi. Per cui fai meno fatica ma sei più fragile. Perché quel gran lavoro di quelle generazioni passate in realtà rafforzava. Rafforzava in maniera straordinaria. Si sentivano pochissimi in colpa perché sapevano già di avere fatto cose mostruose. Per cui non si sentivano in colpa se non avevano finito una cosa o se dovevano farne un'altra, l'avrebbero fatto il giorno dopo. E allora questo cosa vuol dire per voi che lavorate? Vuol dire che il luogo della farmacia è diventato totalmente diverso. Se volete un esempio assomiglia un po' al cambiamento della libreria. Quando io ero ragazzo si entrava in farmacia e chiedeva un'aspirina e andavi via, così come andavi in libreria e chiedeva il calvino e andavi via. Adesso non funziona più così. Feltrinelli lo sa bene. Sa bene che guadagna quasi di più con i caffè che con i libri. E quindi cosa ha messo il bar dentro della libreria? Ma perché? Perché la libreria è un luogo dove possiamo finalmente perdere un po' di tempo. Avete notato? Le grandi nuove librerie hanno il divanetto, hanno la cosa, perché ti metti là, puoi dare un appuntamento alle 5 di pomeriggio con un'amica, con una cosa, nel frattempo ti vedi una rivista che non l'hai mai visto, perché poi non compri, non importa, però stai bene. Il risultato è che stai bene, che ti riconosci in quel luogo. Beh, la farmacia deve essere la stessa cosa. Eh, non posso venire dentro, dammi la cosa e scappo via. No, io voglio potermi per esempio sedere. A me per esempio se c'è una cosa che mi dà fastidio alla farmacia, la capisco per questioni di privacy, è quella linea gialla che mi sembra, no, di essere proprio alla, no, quando facevi i tre giorni militare. No, stai lì tutto in fila, dietro e uno, capisco, però secondo me bisogna pensarlo in maniera diversa, perché se non lo fate voi lo farà qualcun altro. E già le parafarmacie sono ovunque, la rete c'è, la rete c'è, la rete c'è e come? Secondo me occorrerà fare prima o poi anche un discorso, perché io vedo da me nel mio lavoro clinico molti ragazzi che si comprano benzodiazepine in rete. Dio solo sa dove vengono fabbricate, Dio solo sa cosa c'è dentro e Dio solo sa che effetti avranno reali, però questo è diventato una specie di business, naturalmente se ne giovano paesi più o meno canaglia dove non ci sono verifiche, dove puoi produrre qualsiasi cosa, d'altra parte la globalizzazione ha portato anche a questo, ma non potendo andare alla fonte dobbiamo almeno controllare da un'altra parte. Per esempio, chi è che mi accoglie in farmacia? Con quale competenze? Siamo in un mondo oggi molto confuso da questo punto di vista. Io sono un po' terrorizzato dell'idea che uno è uguale a uno, francamente. Io sono medico e quindi se devo parlare di vaccini parlo con un immunologo, non parlo con un dj, non so voi, però quindi mi pare un po' strano che arriva un dj e dice che l'antibormilo fa venire l'autismo, perché l'ho sentito al bar. E quindi è vero. Allora nel vostro campo, siccome non stiamo parlando di sciocchezze, nel vostro campo credo che ci sia bisogno di rassicurazione, ma anche di informazione professionale. E voi con lo stemmino sul camice rappresentate la garanzia che quella informazione professionale è la cosa giusta. Perché se no io vado a finire sul forum e sul forum trovo la qualunque, l'ex ballerina di tango che parla di poliomelite. Mi spiego, perché c'è di tutto, poi si firmano carciofino 27, per cui non sai neanche con chi ti puoi prendertela. Allora, finché si scherza, si scherza. Sulla salute è meglio non scherzare. Sulla salute è meglio non scherzare, anche perché poi la salute ha tutta una serie di contorni formidabili. Penso per esempio al rapporto tra salute e dieta. Anche lì siamo stati bombardati da informazioni anche contraddittorie. Il bicchiere di vino rosso fa bene, poi viene una settimana dopo, che muori subito, tutte queste robe. Pensate a un supermercato. Entrate dentro un supermercato e voi avete 20, 30, 40 metri di prodotti senza. Io cosa ho comprato? Non lo so però, senza zuccheri aggiunti, senza l'olio di palma, non sai cosa hai comprato, però sei contento di non aver comprato una certa cosa. Cioè tu vai dentro a comprare una non cosa. Anche quello è una roba tremenda. Pensate a un bambino che viene su, no? Che ha la mamma terrorizzata dall'olio di palma. Eh no, io non ce l'ho, per carità non produco queste cose, quindi non ho nessun interesse commerciale. Però non possiamo pensare che un bambino cresca con l'idea che se si mangia un biscotto con l'olio di palma non arriva neanche a pagarlo perché muore prima della cassiera. Insomma, non si può scherzare su queste cose. Quindi prendiamocela anche perché? Perché poi tutte queste paure ti fanno morire di paura. E morire di paura vuol dire avere una vita angosciata su tutto, pensare che ci siano chissà quali multinazionali che stanno costruendo la tua morte, tutto questo mondo paranoico che qualcuno si è costruito in cui si crogiola in qualche modo, no? Poi cosa facciamo? Ci chiudiamo tutti in casa. Mettiamo i sacchi, no? Come diceva il nostro benamato Dalla, i sacchi di sabbia alla finestra. Non credo che questa sia la... Io nel condominio mio c'ho due ragazzi, un ragazzo, lei non l'ho mai vista. Lui lo vede ogni tanto perché porta fuori il cane a fare il pipì. Mangiano con i dai uo e queste cose qua. Non escono mai. Infatti io gli ho detto una volta alle 8, gli ho detto guarda secondo me un consiglio non uscire. Guarda è pericolo. Dietro l'angolo può succedere di tutto. Rimani in casa. No voi scherzate. Questa è una delle sindrome oggi più diffuse. Corea del Sud prima, Giappone poi. Oggi ce ne sono migliaia in Italia. Che cos'è? È la sindrome della non malattia. La sindrome della paura di tutto. Ecco perché dobbiamo creare dei luoghi dove la gente non solo non ha paura di aprirsi. Mi spiego. Voi dovete essere dei punti di riferimento. Guardate, l'ha capita la grande distribuzione, con grande problematica dal punto di vista economico. Ha capito che la grande distribuzione dopo il boom degli anni 50 e se è lungo. Adesso non funziona più. Perché? Perché tu vuoi... è come mia mamma che quando andava dal... si dice casolino da noi... dal venditore di alimenti che gli diceva signora le do il solito prosciutto però ci avrei un'altra cosa. Insomma mia mamma sapeva che gli stava aggiungendo della roba da pagare. Però si sentiva anche... no? Per quel buongiorno signora o buonasera signora, no? Ti fa. Funziona. Perché sei un anonimo. Cioè siamo tutti soli. No? E oggi nel mondo della ipercomunicazione siamo ancora più soli. Eh? Perché non è che se mandi... adesso abbiamo fatto 750 selfie da qua a venire qua. Però non è che questo ci aiuta nella socializzazione. No? Non è che se mandi una fotografia come su Instagram, no? Sono quelli che mandano alle 8 e un quarto... ti sarà capitato... alle 8 e un quarto ti arriva una fotografia di un cappuccino. Ci sono dei mononeuronici in giro che ti vanno al bar, gli danno le fotografie e le fanno fotografie. E poi devi anche commentare alle 8 e 16, devi anche dire amora che schiuma meravigliosa. Capite che siamo tutti molto soli. E allora voi avete un senso se rompete questa cosa. Anche con un sorriso, anche un po' di ironia. Perché se tu... se arriva la signora Rosa e tu per caso ti ricordi che c'ha due figli, uno dei quali si ammazzava di canne, gli devi dire come va. Perché come va non gliela ha detto nessuno, tanto meno suo marito. E quindi ecco il senso. Non è per fare più business, è per essere più umani. Perché abbiamo bisogno di umanità. Se siamo tutti concentrati su di noi, se siamo come avrebbe detto qualcuno, se siamo tutti autarchici. Ma non lo so. C'era una ragazza che veniva da me, che aveva sempre i problemi col fidanzato, litigavano e una mattina viene piangente come una fontana di Trevi, mi fa... ma ieri è andata peggio. Dico, cosa è successo? E alla fine lui mi ha detto, guarda che io mi basto. Ecco, questa è diventata la società dei bastanti. Cioè noi abbiamo questo problemino qua. C'è qualcuno che si è illuso che possiamo bastare a noi stessi. Solo perché abbiamo quattro lire in più, solo perché non abbiamo più il gabinetto in mezzo ai campi, solo perché abbiamo forse anche la jacuzzi, forse perché mangiamo pesce più volte alla settimana. Forse tutte queste cosette qua, che non sono poi così fondamentali nella vita, ci fa pensare che il nostro mondo emotivo... pensate, pensate se oggi venisse Freud e uno gli facesse vedere un telefonino con un emoticons. Dice, sai, tutto quell'inconscio lì, è diventato una faccina gialla da mona. Uno diventerebbe matto, dice, ma siete diventati scemi. Cioè tutto quel ben di Dio che abbiamo dentro, no? La nostra anima, le nostre emozioni che variano, fluttano come fiumi carci, ci sono cose meravigliose. E c'è qualcuno da Cupertino California che si è permesso di riassumere in un cerchietto che fa con la rima la bianca in su o in giù. Ma anche no. O no? Sì, ci piace ogni tanto far così, hai like, hai like, però dopo la vita non è così semplificabile. In ogni caso non è semplificabile così facilmente. Quindi bisogna non arrenderci, bisogna dar vigore a quello che abbiamo. Poi useremo la tecnologia perché ci aiuta, perché ci metti tre secondi, adesso in taxi mi prenoto un aereo. Ma quella è una cretinata, è come il frigorifero per mia nonna. Gli rimaneva la ricotta due giorni in più, ma non è che gli ha cambiato la vita. No? Quando gli ha messo il citofono, io non c'ero, non ero presente. No? Quindi sarà stata anche contenta. Tecnologie sempre parliamo, no? Però non è che è rimasta tutto il giorno e anche la notte attaccata al citofono. No? L'ha usato e l'ha rimesso là. Ecco, la tecnologia va usata e rimessa là. E allora tutto questo che rimane, ciò che rimane tra di noi, diceva la canzone, va accolta. Questa è un'esigenza e voi avete questa possibilità. Come? Non lo so, anche cambiando un po' l'architettura del vostro spazio, lasciando anche la possibilità di rimanere cinque minuti in più. Perché magari ne ho bisogno, magari... E poi, scusate, lo sapete, no? Se uno si sta bene, almeno per me funziona così. Se io vado in un negozio c'è una commessa, un commesso simpatico, compro. Ma se c'è uno che mi tratta un po' male, ma può avere il Kashmir numero uno del mondo, che dico se lo metta lei stanotte e io vado via. Perché? Perché ho bisogno di complicità. E tutti noi abbiamo bisogno di complicità. E la complicità vuol dire capire l'umore dell'altro. Siamo tutti un po' psicologi, non ci vuole, no, chissà che cosa, per capire se uno è vagamente un pochino più triste o un pochino... No, perché lo vedi. È così e va rassicurato. Siccome voi avete anche prodotti di rassicurazione, che non sono solo i farmaci per dormire, ma sono anche delle cose per essere un po' più carina, per... come vedete... io ho quasi tutto... i miei clienti sono tutte donne quasi, una sorta di gineceo. La vedi subito la donna che si è messa un attimo, che finalmente fuoriesce da quel feeling blue, come dicono gli inglesi, no? Da quella sensazione un po' depressiva. E che cosa lo capisci? È quel filo di rossetto. È il filo di rossetto che ti dice sta emergendo. No? È il taglio di capelli nuovo. È la tinta un attimo diversa. È la scarpina che si è comprata nuova. Non sono cretinate, non sono solo questioni estetiche. Parlano di noi. parlano molto di noi. Guardate, la moda, quella che vince, ha per protagonisti persone che hanno capito esattamente questo. Vi potrei parlare di un fenomeno straordinario mondiale che si chiama Gucci. Alessandro Michele ha capito questo e ha fatto bingo. Perché? Perché ha capito la persona. Perché sa che liberando la persona, permettendogli di essere attraverso i vestiti se stessa, liberando dal sesso all'età, quello che si chiama gender flu, sembrava una cosa complicata, bellissima. E allora ecco cosa ha bisogno la gente. La gente cerca voi per una pillola, per un prodotto, per avere cinque minuti per se stessa. Guardate quanto poco spazio noi diamo all'ascolto. È pochissimo, si sta riducendo sempre di più. Così come lo spazio di guardare, il tempo di guardare è pochissimo. La Tate Gallery hanno fatto, Tate Modern, Londra, hanno fatto un'indagine spettacolare. Hanno calcolato in maniera assolutamente precisa quanto tempo una persona sta davanti a un capolavoro. Sapete quanto? Otto secondi. La media. Vuol dire che ce n'è uno che sta a mezzo. E allora quel capolavoro cosa serve, scusami? Se non serve per incantarti, se non serve per comunicarti gioia, meraviglia, anche raccapriccio, anche raccapriccio che è sempre un sentimento. Eh, scusate, un grande serve a questo, no? Sì o no? È bellissimo, perché poi torni e pensi, perché quell'osservazione, quell'ascolto, poi tu la traduci in un'altra cosa, no? È bellissimo. È come quando Mick Jagger andò tanti 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 anni fa a questa mostra pazzesca, la prima volta che la fecero sempre alla Tate Gallery di Rochko, che era un signore che era molto poco conosciuto all'epoca, anche molto... E lui entrò, questa è storia, no? Dentro questa grande sala dei neri, dei cosiddetti delle tele nere, e ci stette un po'. Andò a casa e cosa fece? Painted black. E' da lì che è venuto fuori. Vedi? Un'osservazione, no? Virale, ti dice una cosa, elabori e fai. Vedi quella? Ma se fosse stato lì tre secondi a vedere Rochko, cosa faceva? Painted? Niente. No paint. No? E rimaniamo ignoranti. Vi spiego. Allora, guardate che... E poi voglio finire perché tanto rubo cinque minuti in meno, no, no, perché così il presidente deve andare a vedere la partita. Rispetto molto il calcio. Allora, c'è una cosa bellissima che io ho imparato nella vita, quanto è bello ascoltare le storie. Una persona è colta non solo se ha letto dei libri, ma se ha ascoltato delle storie. E la cosa bella delle storie è che la storia di un posteggiatore abusivo e di un premio Nobel hanno entrambe un interesse. C'è dell'interessante in entrambe le cose, perché sono vite. E ti insegnano sempre qualcosa. E se tu hai l'umiltà, ecco cosa dovete avere nella... Vedere nella persona non solo un acquirente, ma una persona che ti può raccontare un po' di storia. Che ti può dire una cosa che non sapevi. E tu alla fine non solo hai fatto il tuo margine operativo, ma sei anche un po' cresciuto. Sei diventato anche un po' più esperto dell'umanità. Perché bisogna ascoltarla l'umanità, non si può sfruttarla l'umanità. Bisogna anche avere quella cosa che si chiama sensibilità e rispetto, che poi ci fa essere molto migliori. I grandi, nella mia vita ne ho conosciuti alcuni. I grandi, 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 Paolo lo sa bene, sanno questo. Curiosità e umiltà. Uguale semplicità nella comunicazione. Non usate questa comunicazione pseudo-medica che allontana il paziente. Voi dovete comunicare in maniera semplice. Anche quando ci sono delle comunicazioni non facili. Per esempio dolorose. Ha maggior ragione. Perché io, quando guardo il mio medico, voglio capire dai suoi occhi cosa sta pensando delle carte che vede. Non so se riesco a spiegarmi. Io devo tornare a casa sapendo che lui è bravo e che mi ha detto la verità. Tutte e due le cose. È bravo e mi ha detto la verità. E allora sono rassicurato, anche se le notizie non sono buone. Ma se io non so se è bravo e non so se mi ha detto la libertà, io la notte non dormo. Ho gli incubi. Ecco, allora voi dovete curare gli incubi, non alimentarli. E quindi quello che vi auguro è questo è un momento magnifico, molto interessante per voi. Abbiamo più tempo. Non è vero che non abbiamo tempo. Abbiamo più tempo. Volendo abbiamo più tempo. E quindi è un più tempo guadagnato per voi. È un più tempo che potete organizzare. Naturalmente però tutte le cose necessitano una cosa che è molto difficile. Cambiare. Se voi non siete capaci di cambiare siete morti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.